Madonna mia, ma sono quelli dell'anno scorso, oddio sotto la doccia, no, no, Maria, ma Maria, questo Maria, Maria, a me sta roba mi dà fastidio psicologicamente, però mi ha detto mille volte, oh dai, soprattutto oggi che non ho le lette a contatto, mi sta succedendo, sono tornato per giocare e per farti spaventare, il mio nome devi urlare se non vuoi farmi arrabbiare, mai saputo come si chiama, mai,